amici della terra è un'associazione ambientalista attiva in italia del 1978 con sé di recapte su tutto territorio nazionale è riconosciuta dal ministero dell'ambiente e constituisce la rappresentanza italiana di friends of the earth international il network ambientalista più diffuso nel mondo parlaremo adesso con la presidente dell'associazione rosa filippini buonasera rosa filippini li ringrazio per la sua vostra attenzione e disponibilità rosa che cosa significa essere amici della terra essere amici della terra significa dedicare il proprio tempo il proprio impegno per far crescere ed evolvere la cultura ambientalista e anche la politica dell'ambiente in italia significa voler risolvere i problemi significa misurarsi quindi con la soluzione dei problemi su una base scientifica e non su prese di posizioni ideologiche quindi significa non far parte di una setta ma essere dei cittadini che vogliono partecipare alla vita del proprio paese particolarmente attenti alla salvaguardia della natura e alla cultura ambientale quali sono stati i vostri successi in campi ambientali ma proprio perché la nostra è una delle associazioni più antiche in italia come associazione ambientalista e nasce alla fine degli anni 70 ed ha avuto un ruolo molto importante nella costruzione delle istituzioni in difesa dell'ambiente in italia ha collaborato fin da prima della nascita del ministero dell'ambiente ma ha avuto per esempio un ruolo importantissimo per la creazione del sistema delle agenzie ambientali in italia per questo abbiamo da soli da soli raccolto firme per un referendum e siamo arrivati al voto a questo referendum abbiamo proposto una legge e abbiamo fatto in modo che quindi si nascessero in italia sia l'agenzia per l'ambiente nazionale che quelle regionali questo sistema ancora regge molto importante poi ci siamo occupati da sempre di energia e se vogliamo la crescita del concetto di efficienza energetica e i suoi numerosi sviluppi sono dovuti in parte alla nostra azione ancora oggi teniamo una conferenza annuale sull'efficienza energetica e questo è uno degli argomenti di maggior impegno ci siamo anche occupati molto di rifiuti siamo intervenuti sulle vicende di diverse emergenze che sono state nel paese per ciò che riguarda i rifiuti e non ultimo di napoli abbiamo sostenuto a differenza di molti altri ambientalisti che non fosse possibile prolungare così a lungo questa emergenza che fosse necessario per l'italia avere a disposizione in ogni regione nelle città più grandi gli impianti di base per lo smaltimento dei rifiuti e che questa fosse la condizione per poter fare evolvere le politiche dei rifiuti e quindi anche il riciclo e riuso e tutte le altre diciamo degli altri indirizzi per la diminuzione dei rifiuti e quindi diciamo questi sono poi ma ci siamo occupati abbiamo introdotto in italia i grandi temi di salvaguardia internazionale come l'amazzonia abbiamo fatto tantissime cose nel corso di questi anni ci siamo occupati di trasporti di difendere il trasporto pubblico con successi alterni abbiamo introdotto in italia nell'ambito delle analisi costi e benefici lo studio dei costi esterni tante altre cose gli amici della terra fa parte di un network ambientalista nel mondo e già fa parte della federazione dei friend of the earth che è presente in tutto il mondo ed è la più diffusa nel mondo è presente in oltre 70 paesi di tutto il mondo compreso l'estero europeo chi può iscriversi per far parte di amici della terra chiunque diciamo la cosa interessante è che negli anni 70 80 il volontariato soprattutto coloro che collaboravano saltuariamente gratuitamente erano prevalentemente giovani a partire dagli anni 90 invece i volontari sono per lo più pensionati nel nostro caso siccome siamo autori di numerosi studi ricerche diciamo che sono la base lavoro scientifico che alla base della nostra proposta politica i nostri volontari vengono spesso dagli enti di ricerca italiani e dopo il loro pensionamento trovano il modo di collaborare gratuitamente con noi ok rosa filippini li ringrazio tanto per la tua disponibilità grazie per la tua disponibilità grazie per la tua disponibilità grazie per la tua disponibilità e grazie per stare con noi su 3 channel grazie 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 a tutti.